Sì, grazie, grazie Presidente. Ieri, mentre mi preparavo il discorso di oggi, ho cercato di riuscire a capire che cosa teneva unito il partito delle tasse con il partito della decrescita felice. E ho trovato un collante, ed è manette e tasse, perché questa è la legge delle manette e delle tasse. Punto e stop. Allora, quando vedi e leggi e ti rendi conto di dove portate il Paese, bene ha fatto il senatore Lucidi ieri a dire esco dalla ruota del criceto, dalla ruzzola del criceto, ma voi ci state mettendo gli italiani nella ruzzola, ci state mettendo gli italiani a correre per pagarvi le tasse, solo tasse. Allora, quando leggi sui giornali, indecente l'evasione fiscale, è indecente la pressione fiscale al 59% in Italia che voi volete continuare a aumentare, ma dove volete portarla? Al 70%, all'80%. È indecente trovarsi e leggere che volete dare denari alla festa del Partito Comunista che compie 100 anni. È indecente! C'è il Paese che soffre! E voi ci date i soldi per la festa del Partito Comunista, non dei 100 anni, dei 99 e anche dei 100. Una follia. È indecente che questo Paese abbia una burocrazia che è qualcosa di credibile, quella va smantellata, la burocrazia. È indecente dire che siccome non riesco a fare i processi in modo veloce, li rendiamo eterni! E poi ti trovi per forza un ragionamento del Ministro l'altro giorno che dice che siccome non riusciamo a metterli in galera col dolo, li mettiamo in galera con la colpa. Questo è, spiegatemi la colpa, siccome non ci riusciamo, allora li mettiamo in galera con la colpa. Bene, questo è un ragionamento che fa molta paura, fa molta paura in un Paese democratico. Poi ti trovi e leggi, ed è indecente vedere, io lo vedo in commissione estera, che ci sono, ed è molto preoccupante questo dato, ma voi non ci pensate, e vedi e leggi delle famiglie italiane che ti dicono io vado all'estero per trovare futuro. Oggi vanno all'estero purtroppo delle famiglie italiane che hanno i figli per dargli futuro ai figli. Voi a questo non ci pensate, pensate alle tasse e alle manette, perché aumento le tasse, metto gli italiani nella ruzzolina, corrono e pagano le tasse. Questo è l'unico ragionamento che sapete fare. Forse perché non avete mai avuto una partita IVA, forse è quello. Cosa fate poi? Togliete anche, ed è indecente anche questo, la videosorveglianza per tutelare bambini e anziani, e io direi per tutelare anche gli insegnanti magari da qualche cosa che viene detto e magari non è vero. Per cui anche questo togliete. Questa è la differenza tra noi e voi. La differenza tra noi e voi è che noi abbiamo una visione di paese al 2025, al 2030, pensiamo alle infrastrutture, pensiamo alla sanità, pensiamo al lavoro, pensiamo all'impresa, pensiamo alla cultura, pensiamo all'Italia! Prima gli italiani e poi gli altri, come è successo in Gran Bretagna ieri e così hanno dimostrato la grande vittoria. E concludo, mi sembrate, mi sembrate, ma lo penso veramente, e si vede oggi dall'aula piena come siete, oggi è piena, lì la parte vedo vostra, mi sembrate, avete presente il film, il Titanic, che in un certo punto c'è l'orchestra che suona e la nave affonda? State suonando e il paese sta affondando! Svegliatevi! Dio vi possa perdonare per quello che state facendo! Grazie!